Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. Se state riscontrando problemi con l'ultimo aggiornamento di Windows 10, a meno che non si tratti di una build, quindi un aggiornamento semplice, e volete disinstallarlo, allora siete nel posto giusto. Come fare? Andate su Start, Impostazioni, andate su Aggiornamento e Sicurezza, Visualizza cronologia degli aggiornamenti, Disinstallare gli aggiornamenti. In questo modo avete sotto controllo tutti gli aggiornamenti che sono stati scaricati e installati nel sistema. Quindi potete selezionare l'aggiornamento che vi sta creando problemi e cliccare su Disinstalla. Naturalmente nel caso in cui Microsoft abbia ritirato l'aggiornamento per fixarlo, quando verranno scaricati nuovi aggiornamenti non sarà presente. Ma se l'aggiornamento non è stato ritirato, disinstallandolo e verificando la disponibilità degli aggiornamenti verrà nuovamente individuato, scaricato e installato. Quindi se riscontrate problemi, disinstallate l'aggiornamento che vi sta creando problemi e attendete un fix o comunque un nuovo aggiornamento da parte di Microsoft.